Ehi, oi, oi, vada chi c'è, è sauro! Allora, fai vedere il Presidente che taglia la porchetta! Presidente Genuino! Genuino! Presidente, da quant'è che tagliate la porchetta qui? Eh, da stamattina! Ma... Stamattina l'alba! Stamattina l'alba! Ma chi è il bando da qui? Porchetta Volontà! Presidente! Ma chi è il bando da qui? Ma vieni molto a un bostino! Sa quanto è il bando da qui? Vieni, metta a posto, dice ma voi, eh! Stamattina, dopo se la devo più! Dove di, e vai! Oh, te la girate! Ma ti lo manda niente, io credo! Dai, non fai il corino! Guarda la maglia, va bene! Dai, riscaldate, guarda di che... C'è lo sculetto sulla maglia, scusa! Ma giorni, la lontano, salchiato! Anche mani, la lontano, salchiato! che felino non 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 Brasile Sam, come mai questa maglietta? La maglietta è dovuta alla vacanza in Brasile, fin di giorni. O anche le tue doti tecniche in campo? No, no, quelle no. Quelle le riservo per prossimamente. Ah, ecco. Sono maglietta. Grazie. Ciao. 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 Grazie a tutti. E se ne va, la polizia se ne va, la polizia se ne va. E se ne va, la polizia se ne va, la polizia se ne va. E se ne va, la polizia se ne va, la polizia se ne va, la polizia se ne va. La polizia se ne va. La polizia se ne va, la polizia se ne va. Abbiamo visto che questa avventura diventava sempre più di un po' di squadra. Ognuno ha fatto la sua parte. In qualsiasi momento abbiamo cercato a fidare la parte. Fabri, guarda, si vuol fare lo zoom veloce, vedi così, guarda, te guarda ante l'occhio, eh? Guarda. Mamma, mamma. Capito? Capito. E ora vi dico grazie, grazie di cuore e con tutto l'affetto per quello che avete dato e che darete in futuro. Vogliamo ringraziare in primo luogo gli sponsor che hanno accompagnato il Semonte in questo storico traguardo e che la società tutta ringrazia. Acqua Olivo Minerale Missia, Alunno Alto Gubbio, Alunno Alto Scheggia, Autocarrozzeria Fiorucci Giulio, Autotrasporti Ciccarini, Barziononte, Barbonila, Piti, Giuliano Bartocci, Bando Polignini, Fabio Gambini, Caprizio Biandoni, Francesco Martini, Francesco Pascolini, Domenico Regni, Centrocampischi, Moreno Bolognini, Andrea Calzuola, Cristian Ciccarini. Cerdolla, Massimiliano Crocci, Graziano Fappri, Elvio Ferrucci, Claudio Radicchi, Signore Zaccani. Attaccanti Luca Barbetti, Michele Casagrande, Eros Mencarelli, Gianluca Palazzari, Francesco Perzolo, Aldo Pierotti, Paolo Urbani. Un augurio particolare va agli infortunati per una pronta guarigione. Panas tamanho Rotunda, Pitorio Calza Roscani,地 Miracini, Floriano Villa 봤 al postoaltra, Pitorio Marco Barbetti, Martini, Gianluca Campove non c'è l'ora, Pitorio Marco Barbetti, Gorini, Gianluca Camposiatria, Castroclus, Inter hoe la stvar rapportsætiva del nord di Groupigen Tech Simoksiatria, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, che vuoi? Aspetta, giratene di qua, scusate. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.